Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Quaidu sul server! Come ogni anno è arrivato Natale e noi stiamo per prenderci un paio di settimane di ferie per ricaricare le batterie. Naturalmente vi lasciamo un sacco di contenuti da guardare sul secondo canale, sul primo canale, perché abbiamo lavorato come piccole cicale scaltre, mettendo da parte per l'inverno. Esatto, ma questo è un video che facciamo proprio sotto Natale, mentre l'atmosfera è proprio quella giusta per farvi i nostri più sentiti a uomo. Ma che cazzo? Però perché non lo metti in aereo? Sì, hai ragione, ma è una cosa importantissima. Sì, 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 una cotta e funghi. Sì, senza cotto. Eh, allora una funghi. Senza, si può avere senza funghi magari. Esatto, come si chiama? Ah, Margherita. Ma tu pensa. Scusa, eh, zia che proprio non si sente bene. Guarda che ho sentito tutto, eh. Ah, ma tu stai cosa della Margherita la sapevi? Ma io la chiamavo funghi e cotto semplificata. Ah. La sentite quest'atmosfera di festa, ragazzi? Come tutti gli anni si sta avvicinando il Natale e sempre come tutti gli anni stiamo per prenderci qualche giorno di meritata vacanza, perché siamo stanchi. Siamo stanchi ma non al punto di lasciarvi a bocca asciutta. Infatti, ci saranno parecchi video che potrete guardare mentre sgranocchiate un bel torrone vicino al caminetto. Se invece state a Cuba, oh, il caminetto non vi serve. Comunque, ragazzi, quello che vogliamo augurarvi, scherzi a parte, dal profondo del cuore è un buon... Oh, ma che palle, la batteria la dovevi guarda tu. Ma guarda che se non ti avesse squillato quel cazzo di telefono avremmo finito e tranquilli, no? Eh sì, e se mia nonna avesse l'aria sarebbe un cazzo di aereo. Madonna che palle, mi sta passando la voglia di fare sto video. Ciao e bentornati su Quei Due Su Server. È quasi Natale. Esatto. E mo' ci facciamo una quindicina di giorni di vacanza senza fare un cazzo che stiamo mezzi tritati. E poi, boh, verso gennaio torniamo. Comunque, oh, non vi fate prendere dall'ansia che abbiamo caricato una mezza dozzina di video così state a posto per le vacanze nelle nostre palle. Visto che tra pochi giorni è il 25, avevamo intenzione di farvi gli... Ma che cazzo fai, Michele? Michele, entro in campo. Eh, fai un po' tu, la camera sta là. Dai, per favore, inizia la tua battuta. Mia? Ok, vado. Visto che tra un po' di giorni è il 25, volevamo far... Senti, già mi sono rotto i coglioni di fare sto video, eh. Facciamolo, come viene viene, eh. Va bene, così ce ne andiamo in vacanza e non ce la faccio più. Ciao. Come va? Ti è posto? Adesso ce ne andiamo in vacanza. Però vi lasciamo qualche video così state buoni e non infartate. Ma prima volevamo augurarvi buon... Cacca di una gran puttana, ma è possibile che salta pure il cazzo di audio? Zitto, non mi dire niente, non mi dire. C'ho le palle che girano a 3.000. Eh, ha la faccia dello spirito di sto cazzo natalizio. Spirito natalizio? E adesso che scendo do fuoco a un barbone, do. Dai, muoviamoci, facciamo sta cosa, andiamoci nel affanculo, dai. Auguri. Sentito? Fatevelo bastare. Stronzi. Vabbè, dai, la teniamo. Ups. Quello era il rumore di... Siete che ho salvato il cellulare da una file veramente... Ah, no, non il cellulare. La bottiglia di birra mi è cascata dal frigo, come il filo visto quanto è alto. Sì. Bottiglia di birra piena, chiusa, l'ho salvata con il tacco. E la cosa bella è che l'ho salvata e è andata a terra, non sa è rotta. Faccio uno schioffo, sentivi le madonne fino da te.